Buonasera Ornella, benvenuta. Buonasera Mara, benvenuta. Ciao, buonasera. Allora, diciamo che questa... Volevo dirti una cosa, se raggiungi Baricco, si può dire di venire a casa mia così continuo a raccontare. Eh, certo. Adoro Baricco. Ma tutti lo adoriamo, guarda. Eh, beh, certo. Chi ha letto i suoi libri, chi non li ha letto... Però volevo dire al pubblico una cosa, questa è la prima intervista puntate. Se siete d'accordo. A puntate. Sì, io farei questa sera la prima puntata di Ornella e Mara, seguirà una seconda e forse una terza puntata. Ecco. Possiamo, perché non... Usciremo vivi? Ma perché non ce la... cioè, è una vita talmente... due vite talmente intense, dense, che non è che posso esaurirlo in venti minuti. Quindi, facciamo a puntate, va bene? Va bene. Va bene. Ok. Cominciamo con la prima puntata. Cominciamo con la prima puntata. Ci incontriamo, io Ornella, all'Ariston. Ah, proprio cominciamo così. A Sanremo vi incontrate. No, no. No. Ma da che si è, allora. All'Ariston Casa Discografica. Ah, scusa, all'Ariston Casa Discografica. Certo, certo. Perché tu sei amica dell'Uno. Facevo l'ufficio stampa dell'Ariston e quindi la signora Valoni... Poi facevi l'ufficio stampa di questa casa discografica in cui c'era Ornella. Esatto. C'era il capo dell'ufficio stampa, proprio il capo della casa discografica. Alfredo Rossi. Non capiva un tubo. Vabbè, adesso... Non capiva un tubo di musica, di cantante. Però è stato un grande editore. Dai, adesso diciamo anche qualcosa di buono. Ornella è stato... Era la cosa. La spot, ma non c'era allora la spot. C'era Franco Califano che faceva le edizioni. Allora, dov'eri te, vabbè? Dov'eri te, vabbè? Vabbè. Allora, la verità è che io arrivo a Ornella, grande star, eccetera. Per cui io mi metto... Ma questa cominciava appena... È vero, era una starletta. Era una starletta. No, no, proprio... Ma no, scusa. Era una robetta la Valoni. Ma no, era già... No, no, no. Aveva fatto teatro, aveva fatto cose importanti. Aveva già fatto strelle e tutto. Sì, ho capito, no? Ma non avevo fatto... Nella canzone valeva niente. Nella canzone. Va bene. Netta. Tu conoscevi anche mamma e papà di Ornella? Ho conosciuto mamma e papà a forte dei malmi. Quando una volta ho accompagnato Ornella in una serata, poi siamo andati a dormire lì, ho conosciuto papà e mamma, carinissimi, che con lei non c'entrano. Perché lei non è carina? Lei è molto carina. No, hai detto... Hai detto... Ornella... È educata, è gentile. Ornella ha detto carinissimi, però con lei non c'entrano niente. No, lei perché... No, loro non sono mai stati fidanzati con Streller. Ah, questo è vero. Non avevano ancora abito giro, infatti erano salvi. Allora, questo... Questo? Sì. Me l'ha mandato un fan perché io non l'avevo. Sì? Che cos'è? Eh, questo è col sangue che l'ha ottenuto lei. Oggi? Aspetta, facciamo vedere di là la telecamera. Oggi? No, le telecamere sono tutte nella direzione diversa da quella... Ecco, così. Da quello che lo mostri. Ah, lì. Ecco, brava. Così, perfetto. Questa è la copertina che ha ottenuto lei. Non so, forse dormendo fuori dall'ufficio. Questa copertina, molto estiva, che uscì invece... Molto estiva a novembre. A novembre, quindi vabbè. È il risultato del tuo lavoro da ufficio stampa di Ornella Vanoni. Sì, perché io andai dal direttore di Oggi, da Fava, che poverino... Oggi c'è Carlo Verdelli che è saluto tanto. Saluti? Magari torno anche da lui. Speriamo. Allora, e niente, lui mi dice no, è una grande artista, però non è popolare, viene dal teatro, cioè era una... Non piace alle donne. Non piace alle donne, non è familiare, però non mi sono rassegnata. Non è familiare? Ah, la foto, sì, gli ha detto, col bambino. Col bambino. E infatti c'è il bambino. C'è il bambino. Però, nonostante, ho detto non credo che gliela posso fare. Ho detto no, non è possibile, lei mi deve accontentare, poi la Ornella Vanoni ci tiene tanto... Quello ammazza, lo ammazza. No, non è che vi ammazza, però le dispiaceva. Allora ho deciso che tornavo tutti i giorni, per tre giorni, sono tornata tutti i giorni seduta fuori. Non chiedevo niente, ma lui sapeva perché. Cioè stavi davanti al suo ufficio per tre giorni? Davanti al suo ufficio. È una stalker. Stalker? Sì, ma l'ho tenuta la copertina. E infatti lui a un certo punto è uscito, al terzo giorno ha detto vada via, gliela faccio la copertina, ma lei vada via. Sono andata via, però poi ha fatto la copertina. Beh, brava, brava. Brava. No, tu, brava. Come era, Ornella? Ornella? Come era... Cioè, com'era Mara come ufficio stampa? Perché lei ha detto... Ornella, lei ha detto... Spiritosissima come è adesso. Spiritosissima? Già allora? Già, eh... Eh beh, perché poi ho imparato strada facendo. Eh beh, magari sì, scusa. Magari uno all'inizio... No, ma non è che ho studiato. All'inizio uno è più timido. No, timido non è. È di natura. Ma cioè non eri timida con le star con cui aveva a che fare? Ma scusa, lei è emiliana, è simpatica per forza. Ma non ho detto che è l'antipatica, ho detto timida, cioè magari... Timida? Ero timida. Ero timida secondo te. Ma beh... Io ero timida. Tu eri timida. Sì, molto, molto. Però ha detto, Mara, che agli inizi non era difficile, non era facile, è stato difficile lavorare con Ornella. In che senso era difficile? Era difficile? Perché è difficile? Eh no, tu le dico. Ho detto io. Sì, certo. Eh, ma dico stronzate ogni tanto. Mi ha dico stronzate. No, Ornella è una donna molto gentile. Ogni tanto, quando era giovane, un po' di capricetti li faceva. Oh! Diciamoci la verità. No, no, no. No, no, diciamo. Quali capricetti? Allora. Quali capricetti? Questo signor Rossi. Ecco. Un giorno vi non ha... Quello che non capiva un tubo? Tu, un tubo. Niente. Tu che hai un carattere così difficile, vedrai. Guarda, io ce lo sanno a fratello, vedrai. E io ho detto, vedrai un corno. Ce l'ha scritto qui che non ce la fa. No, ma come? Non ce l'ha detto. È l'inclare. Ha avuto grande successo. Non ce l'ha detto. Ma non è vero. Una canzone. Vabbè, ma adesso che... Ma che c'è... Non mi portare nel bosco di sera. Eh vabbè, è una canzone bellissima. Ah, la sai anche tu, però. La sai anche tu, eh. Ah, sì. No. Via quella, via. Io sempre... Io sempre... Ma cos'è questa rivalità, scusa? Ma che rivalità? Sto dicendo che ce l'ha scritto qua. Vabbè, ma non è vero. Non è vero. Ciascuno fa la propria strana. Mi dici una parola. Tu, come sei difficile, criticona, non ti piace mai niente. Adesso io o Gilda Giuliani, vedrai. Serena, serena. Sì, però, Ornella, però non è che possiamo adesso... No, è fare tutto. ...inimicarci tutta la musica leggera italiana. Scusa. No, no. Un giorno, vedo, senti, c'era dimenticato di me. Eh, non mi vuole... Eh, va, talmente... Non ho capito l'ultima parola. No, eh, ma ti ha... Scusa, no, si era dimenticato di te? Eh, tanto è vero che io ho detto io... Cioè, la gondola d'oro di Venezia... Eh, voglio andare. Io vado... Era un premio. ...e basta e canto, mi sono innamorata di te. Sì, grande canzone. Grande canzone. E cosa ho fatto? Ho vinto la gondola alla faccia di Rossi. Ecco. Sempre di Rossi. Lei, ecco, Lornella, c'ha un po' sempre queste rivalità. Una vita... Ma Rossi, non era, diciamo, un discografico perfetto. Però era un uomo di musica. Che vuol dire che la Fanoni, scusa, ha sempre queste rivalità? Eh, beh, perché Lornella... Ma quale rivalità? Ma l'ha detto lei, perché non diceva lei? Ha detto io. Quale rivalità? Cosa dici? Ah, mi picchi anche. Senti, no, perché ogni tanto gli viene in mente che quello lì è meglio, lo trattano meglio. Però... Tutti gli artisti ce l'hanno. Sì, un po' di gelosie. Io ho lavorato con tanti artisti, un po' di gelosie così popolari ce le avete, dai. Diciamoci la verità. Io proprio... No. ...gelosa Giuliani. No? No, beh, vabbè, perché poi adesso sai com'è finita. No, no, ma anche allora. No, no. Nonostante. Sto cercando di non far scoppiare una tragedia nazionale, ma non ci riesco. Allora, facciamo la verità, c'era dimenticato di me. Ma io non mi ricordo che c'era dimenticato di te. Ma ti giuro, tanto è vero, ho vinto la gondola. Sì. E poi... Senza di lui. E poi? Come senza di lui? Senza la rossa. Posso dire una cosa al pubblico? No, è per dirvi che le puntate saranno quattro, perché non ho nemmeno cominciato. Quindi stiamo andando a braccio. Tu, con il tuo carattere. Eh, sì, però... Il caratterino ce l'avevi, Diornella, diciamo. Ma per forza, se no... Devo difendermi. Uno che fa carriera, il caratterino ce l'ha. Classico dell'artista, devo difendermi. Devo difendermi. Ma hai visto uno che sono tutti con dei bei caratterini? Ma chi? Ma quale? Ma quando? È certo. Bella gioia! È bella gioia. Vedi com'è? Popolare. No. Cosa sei? Popolare. Popolare. Bella gioia. Eh beh, io ti voglio bene. Per cui dico bella gioia, hai capito? Eh, no, no. Non ho le galle. Poi è elegante, no? Posso? No. Il periodo più... Ecco, non me lo ricordavo. Il periodo più elegante della mia vita l'ho fatto quando lavoravo all'Ariston con lei. Perché? Perché lei metteva un vestito una volta, due volte e poi non lo metteva più in televisione. Per cui me lo regalava a me. E io devo dirti, è stato un periodo che non mi riconoscevano neanche i miei familiari. Perché? Perché? Ero sempre elegantissima, perché Ornella aveva delle cose molto belle. La misura era quella lì, no? No, la taglia andava lì. Ah, mi ha regalato anche una pelliccia che non avevo neanche... No, quella... Oh, mamma mia. Ecco, sei tu? Sei tu? Sì, sì. Ma guardate Mara Maionchi, guardate. Ma guardate... Col vestito della Vanoni. No, quello lì non è della Vanoni. Quello lì è l'unico che mi sono fatta io. Ma però poi mi aveva regalato la pelliccia che non avevo mai neanche pensato. Sono stata elegantissima, andavo, facevo una figurone. Beh, sei stata gentile, generosa. Molto, molto. Sì, ma me la Ornella è gentile. Sì, ma me la Maria è simpatica, mi piaceva tanto stare con lei. Anche se... Ah, scusa, una volta? Una volta a Sanremo, a Sanremo, Con la musica è finita? No, 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 a Sanremo c'è anche le ali. Si è amato. Ah, ma questa qui è brutta, non raccontare. No, dopo la dico lassù. No, ma dico... Insomma, tu l'hai detta, però. Io l'ho detta, ho capito, ma adesso non è che tutta la vita... Non si può più dire. Va bene, si può dire. Allora, dirò con... Sussusa. Eh? Sarò sussusa. Sarai sussusa. Confidiamo nel tuo umore per l'eutemismo. Leali, il negro bianco. È arrivato Wilson Pickett, il negro nero, e gli ha fatto un... Ok, vabbè. Perché allora si diceva che avesse... È vero, era il bianco con la voce nera, si diceva. Fausto Leali. Cos'era Deborah la canzone di allora? Sì. Deborah, Deborah! Deborah, sì, mia Deborah, non ricordo. Debra, Deborah, mi ricordo. No, io ho cominciato questo nel 67, 67 e 68. Sì, sì. La Valonna, poi la Valonna mi faccia morire perché prima di andare in cina... Non mi ricordo il testo, non mi ricordo il testo, sì. Ah, sì, sì. Non mi ricordo il testo. Ma qual era la canzone di... Ah, ecco. La musica è finita che avevamo fatto, dove io ho fatto il primo Sanremo, che mi ero anche vestita elegante, ma almeno in corsi perché non mi muovevo. Cioè la canti, la musica... Come faceva la musica è finita? Ecco. Ecco la musica è finita. Gli amici se ne vanno. Che inutile serata, amore mio. Che meraviglia. Allora, questo è Duce. Ascoltiamolo un attimo. Volevo chiederti... Sì. Anche Duce hai i tuoi annetti, non ormai? Prego. Hai i tuoi annetti? Ammazza, ne ho 83, vedi te. Fra me e te è una bella gioventù. La pipì la fai le notte, ti alzi. Non rientrava nelle domande questo... Non ancora, perché vado a letto tardi, per cui facci tempo a non fare. Ah, alle due? Eh? Io vado a letto. No, perché ci sono questi ormoni. Gli ormoni. Ma noi non sappiamo neanche più dove sono gli ormoni. Ma no, sono... Non quelli che pensi... Gli ormoni... Vuoi dire gli ormoni? Ignorante. Ignorante. È ignorante. È vero, è vero. È vero. Gli ormoni ce li hai ancora? Ancora. Sarà uno spennacchiato. Allora, nei ritmi circadiani, sai cosa sono i ritmi circadiani? No, adesso non è che stiamo facendo una lezione di medicina. Circa di anni? Allora, sonno, veglia. Eh? Verso le tre, quattro del mattino... Sì. L'ormone del cortisolo si sveglia e tu ti svegli. No, io non mi sveglio. Si vede che non ce l'ho l'ormone, ti dico che non ce l'ho. Io non mi sveglio. La pipì non ti scappa? La pipì non mi scappa. A che ora va a dormire? Vado a dormire a mezzanotte e mezza e mi sveglio la mattina alle otto, alle nove e vado in bagno. A fare indovina? Ma è forte. Tutte le mie amiche fanno la pipì. Ebbene, tu amico... No, io non mi sveglio. Pazzesco. Momento di strepitosa follia meravigliosa. No, follia, realtà. No, realtà, realtà. Ma la realtà è follia. La realtà fa più ridere della mia amica più giovane. No, è che siamo... Sai cos'è che mi fa ridere, Ornella? Che siamo partiti da Sanremo con la musica è finita e siamo finiti a parlare. E lei mi ha detto che prima la notte... No, ma ho delle cose da sapere... Tanti anni che non ci vedevamo perché poi io sono andata a casa. Ma abbiamo detto, intanto facciamo diverse puntate di questi incontri fra voi due. Siete d'accordo? Io sì, a me mi è simpatica. Bene, perfetto. Ah, poi la prima... Apro la televisione un po' di tempo fa, un po' di anni. Sì. E ti vedo... Ah, il fatto. Sì. Vestita in delle maniere. Cosa hai detto? Vestita in delle maniere. Eleganti. Non avevi più la Vanoni? Cosa vuoi che ti dica? No, ma una giacca tutta figa. Ah, brava, forte però. Da domatore. Ah, mi piaceva molto. Ma quella lì è... Perché avendo lavorato tutta la vita con gli artisti, domatore andava bene. Ma come dove l'hai comprata? Adesso no, dove l'hai comprata? Che ora apre il negozio. No, no, no. Me l'hanno fatta su... Ma perché un domatore? Ma perché bisogna essere domatori con gli artisti? Ma Ornella li caggia a domarla, Ornella, scusa. No, tu non hai idea. Lavorare con gli artisti devi avere due coglioni d'acciaio. Scusate la parola un po' esagerata. Però è così perché l'artista è fragile. È vero o no? Sei fragile? No. Te l'avevo detto? Ma come no? Ha ragione Mara, ho detto che è fragile. Sono fragile perché una loro cosa che non funziona, di cui non sono convinti, sono molto, molto così... Vanno sostenuti. Ecco, vanno sostenuti. Vanno sostenuti, certo. Quei pompieri vanno sostenuti. Vanno assecondati un po'. Vanno assecondati, non esageriamo, se no ti perdi nella notte nel deserto. Voglio dire, vanno aiutati... A proposito di notte, Sanremo 1968, Ornella è in gara, molta ansia, tensione... Non si ricordava il testo, Riccardo, il testo, l'ansia sono io. Esatto. E mentre tu soffrivi e avevi ansia, guardate questa foto, ecco, mentre tu soffrivi e avevi ansia, cara Ornella, sai cosa faceva Mara la sera? No. A Sanremo? Ti stava vicino? Ti chiedeva se volevi la camomilla? Ma sicuro. Ma sai dov'era lei? No. Dov'eri Mara? Che caso ne so, non lo so. Mara, nel 68, mentre lei soffriva per l'ansia, dov'eri tu alla sera? Dove andavi? Al Casinò. Al Casinò. Eh beh, potevo mica... Ma è la Sannia ancora? No, no, scusa. Era tua? Sì, è la Sannia, è la Sannia. Ah, con la Casa Bianca? Sì, Casa Bianca. Eh sì. La Casa Bianca a che? Eh, Stella, come... A Sanremo. A Sanremo, sì. Io avevo delle ansie. E lei andava al Casinò, mentre tu avevi le ansie. No, no, no. Lei alla sera andava al Casinò. La notte, la sera, la sera lavoravo. Di che lavoravo, scusa? Sì, sì, no. Eh. E poi andava al Casinò, capito? No, certo. Quando tu la cercavi, Mara, 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 Mara. No, ma quando lei dormiva dormiva. Gli avevo anche scritto sulla mano il testo della canzone, perché era più tranquilla. Ma di qualcosa parliamo? Della musica è finita? Della musica è finita. Gli avevo scritto sulla mano, la musica è finita, gli amici se ne vanno, sì. Ma lei poi andava... Io mi ricordo Sanremo, dove ero sempre in uno stato... Pietoso. Pietoso, di ansia, stavo male. E ho detto... Cavallazzi e Bigari. Ah, sì? Invece che dice Bigazzi e Cavallaro, ho detto voglio... I due autori delle canzone. Se non sono cavallazzi e Bigari. Vabbè, è andata bene così, poteva andare peggio. Ah, boh, molto peggio. Allora una volta, per esempio, ero talmente emozionata... Ecco, sì. ...che ho fatto finta, sono svenuta. Hai fatto finta? Hai detto mi tolgo dai piedi. Hai fatto finta? Sì, certo. Ma quando? Ah, ah, ah. Ma quando? In che occasione? Ero a teatro, non mi ricordavo più le parole. Ma non a Sanremo? No. Dovunque lei se le dimenticava, non è a Sanremo. Cioè, hai fatto finta di svenire? Eh? Hai fatto finta di svenire? No, finché sono svenuta, sì. Ho fatto finta di svenire, perché non mi ricordavo più le parole. Tu te ne accorgi quando un artista fa finta di svenire? Certo. Io so tutto degli artisti, perché li amo molto, perché poi mi entusiasmano, perché l'artista è formidabile, dai. E' nato con questa stella fantastica che però lo fa sudare, capito? Devono guadagnarsi, è vero, fanno una vita complicatissima, non è bello, non è bello, l'arrangiamento è giusto, l'arrangiamento non è giusto, cioè, di che non è vero? Dico che è vero? No, perché sai, voglio dire. Io ho sempre elegante, anche a Sanremo. Sì. Elegante nel vestire? Sì, sì, sì. Anche nel parolaccio. Che poi la musica è finita. No, ma poi sai che cosa? Sei peggiorata, sei peggiorata, non mi dicevi mica le parolacce. E anche tu però, Amara. Ma io le ho sempre detto. Ah, scusa, va bene. Così tante no. X Factor, perché mi piaceva, guardavo. Ma X Factor. Dicevi, cazzo, c'era bello, cazzo, c'era brutto. E si vede che io l'intero su quella cazzo. Ma cazzo. Quell'ormone spelacchiato. Eh? Quell'ormone che è rimasto. Ha persino il significato reale. È meno male, perché ci manca pure che... Ma scusa, ma infatti, non è che penso al significato reale. Dico una parola come perbacco. Adesso dirò perbacco. Cambio. Non posso. Ha 83 anni che ha perbacco. Cos'è che c'hai qui che perdi? Niente, non serve a niente l'agenda stasera. È la sua agenda di appunti. È la mia agenda. Di appunti. Senti. Ma per fare che cosa? Scusa. Come fare qualcosa? Ah, perché quando non ti ricordi dite l'agenda. Ma va, allora. Scusa. Vedi com'è. Volevo dire una cosa della musica è finita. Che l'ha scritta il tuo suocero la musica è finita. Nisa Bindi. Come no. Bindi. No, Nisa il testo. Suo suocero? No, la musica è finita. La musica è finita è di Nisa Bindi. Se vuoi scommettere. Nisa Bindi, Califano. No. Sì. Nisa Bindi. Vuoi scommettere? Sì, no. Nisa Bindi, Califano. No, Nisa Bindi. No, Nisa Bindi, Califano. Perché Califano non credo? Califano. Così io so. Ma no. La cosa delle parole è solo di Nisa. Ma vuoi che non me lo ricordi? Vabbè, comunque suo suocero ha scritto il testo. Sì. Ah, tutto in famiglia avete fatto. E tu da 68 oggi non lo sapevi? No, perché lei c'ha in mente Califano perché Califano era un figo allucinante. Tutte le... Beh, non dire che non era un bell'uomo franco, era bellissimo. Non è che aveva il facile dell'autore. Io non mi segue. Io ho avuto una puntata con Mara Veniere. Dove hai detto delle stronzate? No, dove continuava a insistere che era impossibile che io non avessi fatto l'amore. Va bene, allora, qui si inisce la prima puntata. No, chiudiamo. Ma è finita? È finita la prima puntata. Non ho mai fatto l'amore. Io ho tutta la mia conversazione. Ho tutta la mia conversazione. Non ho mai fatto l'amore con Califano. Bene, la nazione va a dormire più serena adesso, va a dormire più serena. A brevissimo la seconda puntata con le ragazze terribili. Ornella Manoni e Mara Maionchi. A me la bella gnocca. Dove usciamo? Grazie. Grazie, grazie. A prestissimo, perché non abbiamo neanche cominciato. Grazie. Voglio bene. Ciao ragazzi. Noi ci vediamo al tavolo tra poco. Dopo, al tavolo. Mara Maionchi. Ornella Manoni, Ornella Manoni, Mara Maionchi. Ecco qua. Grazie. Grazie.